Anche Babbo Natale rispetta le norme anti-covid, ma non manca di fare visita ai bambini calolziesi, portando un po' di magia in questo Natale così particolare. Fino alla vigilia sarà nella scintillante sfera che illumina Piazza Vittorio Veneto, pronto a ricevere le letterine dei bambini e scattare un selfie insieme. Per chiudere il Natale in bellezza non poteva mancare il Babbo Natale, quindi ci sarà all'interno della sfera, in Piazza Vittorio Veneto, il nostro Babbo Natale che riceverà tutte le letterine e perché no fare un selfie anche col vero Babbo Natale. Per non far mancare l'atmosfera natalizia l'amministrazione comunale ha anche lanciato nelle scorse settimane l'iniziativa Città di Lucia Calolzio Corte. Le iscrizioni per partecipare al concorso che premierà i tre cittadini che hanno meglio decorato esternamente la propria abitazione si sono concluse il 15 dicembre. 10 partecipanti, spiega l'assessore Cristina Valsecchi, che si ritiene soddisfatta visto il poco tempo in cui è stato pensato e organizzato il concorso, con il solo scopo di rendere più felice questo Natale. Intanto si è chiuso anche il bando e rivolte i commercianti che hanno dovuto chiudere le proprie attività durante il lockdown primaverile. 100.000 euro la somma messa a disposizione dal Comune, 1.000 euro ad ogni attività che ne avrà diritto. Il bando è stato chiuso, abbiamo avuto 118 richieste, si stanno analizzando tutte perché dobbiamo controllare il codice ATECO, se ci sono stati i pagamenti dell'Imo e dell'Atari. Come promesso, prima di Natale manderemo un'email a tutte le persone che hanno partecipato con la risposta positiva o negativa, se hanno diritto ad avere questo contributo.